buongiorno benvenuto al grand hotel madre perla venga venga guardi l'abbiamo tutto tirato a lucido completamente ristrutturato parzialmente consegne consegne donnemo alla claire la chiave della mega super suite madre perla per piacere mi raccomando stai attento alle valigie naturalmente il personale è tutto altamente qualificato venga mi seguo forse meglio che andiamo di là ci scusi venga stiamo testando l'antincendio il test tutto a posto canna a fumaria cucina stellata buongiorno direttore buongiorno grazie e sbarmati vedo che ha già notato il nostro fantastico american bar cocktail mondiale mondiale europei mi piace mi piace mi piace Venga venga, guardi questa è la nostra famosissima Sweet Madre Perla, mi scusi dottor Fini non sapevo, ma lei non era di torno alla reception? Andiamo andiamo, abbiamo un room service eccezionale